Vanda Nara ha lasciato di nuovo tutti senza parole nei giorni scorsi. Sul suo profilo Instagram seguito da ben 10 milioni di follower è sparito il cognome Icardi. Fino a qualche tempo fa l'imprenditrice si faceva chiamare sui social network Vanda Icardi mentre ora è tornata al suo nome di battesimo. Una scelta che secondo molti è il segno di un allontanamento definitivo dal calciatore del Paris Saint Germain dopo il tradimento con Kina Suarez. Ma la realtà è decisamente più semplice. Al programma argentino Flor de Kipo Vanda Nara ha spiegato che ha deciso di togliere il cognome Icardi da Instagram per esigenze lavorative. La gente di Maurito ha aperto nell'ultimo periodo diverse attività con il nome Vanda Nara e non aveva senso avere sui social network un nome diverso da quello dei suoi brand. La bella 35enne ha creato nei mesi scorsi una linea beauty mentre per la prossima estate lancerà il marchio di costumi da bagno Vanda Swim. Ho fatto richiesta a Instagram tempo fa per promuovere il mio brand di bellezza. Solo in questi giorni la richiesta è stata approvata, ha fatto sapere Vanda Nara che come ogni imprenditrice moderna promuove il suo lavoro sul web. Dunque un cambio richiesto prima che scoppiasse quello che i giornalisti hanno ribattezzato Vanda Gate. Un triangolo amoroso che ha tenuto col fiato sospeso tifosi e appassionati di gossip. La situazione oggi tra Vanda Nara e Mauro Icardi Tra Vanda Nara e Mauro Icardi è tornato il sereno. L'ex opinionista del grande fratello Vip ha perdonato la debolezza del marito. L'ex attaccante dell'Inter ha assicurato che con Kina Suarez, attrice cantante argentina, c'è stato solo un bacio in un hotel di Parigi e nulla più. Icardi ha fatto di tutto per farsi perdonare dalla moglie, Mauro ha addirittura regalato a Vanda una borsa da 300.000 euro. La coppia trascorrerà le festività natalizie in Argentina insieme ai cinque figli, Costantino, Valentino, Benedicto, Isabella e Francesca. A Buenos Aires Vanda Nara ha preso da poco possesso della villa che le ha lasciato l'ex marito Maxi Lopez in cambio degli alimenti mai pagati negli ultimi anni. La casa si trova nell'esclusivo quartiere di Santa Barbara. La casa si trova nell'esclusivo quartiere di Santa Barbara.